Eccoci un caro saluto, nel video di mercato di prima non abbiamo affrontato magari altri temi di altri giocatori, ad esempio si parla molto di Messias, Pobega e Singo in ottica Torino, il Torino che rivorrebbe Pobega, il quale interessa Messias e che potrebbe cedere Singo. Io penso che per il tipo di centrocampo, il tipo di mercato che sta facendo al Minam, Pobega non può partire. Non può partire perché noi in questo momento centrocampo abbiamo Loftus, Reinders, Pobega-Krunic sostanzialmente e stiamo cercando un altro centrocampista e poi da gennaio tornerà Isma. Questi siamo e non possiamo scialare, cioè se parte Pobega deve esserci un introito tale da poterci permettere un altro centrocampista. E poi Pobega ha finito la stagione in crescendo, diciamo che la stagione di Pobega non è stata una stagione scintillante ma nemmeno una stagione negativa. Nelle difficoltà del Milan, Tom, poi con il modulo d'utile un po' spurio che potrebbe riproporci a tre centrocampo in alcuni momenti delle parite della stagione di quest'anno, Pobega potrebbe tornare in un modo utile. Adesso continuiamo a parlare di questa cosa. Lasciatemi ricordare OneFootball, OneFootball a vostra disposizione, l'app di OneFootball è gratuita, l'app di OneFootball vi aspetta, l'app di OneFootball che tradizionalmente ormai conoscete è nella descrizione di questo video, c'è il link, scaricate l'app di OneFootball, l'app di OneFootball vi aspetta. Per quanto riguarda Messias vedremo se ci saranno i termini per fare una trattativa con il Torino e lo stesso per quanto riguarda Singho. Singho, tatticamente, tecnicamente, con tutto il rispetto che si deve a un giocatore che non è nostro ma è del Torino, la sensazione che sia più un giocatore non da 4-2-3-1 esterno alto offensivo di destra ma un giocatore che fa più un quinto Singho, quindi potrebbe fare in un 4-3-3 soprattutto il terzino che viene da dietro e che sale perché quelle sono un po' le sue caratteristiche. Io pensavo che su Singho ci fosse anche l'Inter, poi l'Inter ha preso Quadrado e qui veniamo insomma un po' a una parte difficile da dire, difficile da comunicare perché potrebbe essere presa a pretesto per chissà quali polemiche però io spero di essere pulito e lineare nel ragionamento perché pulito e lineare sono nell'approccio e nel concetto ma prima vi dicevo nel video precedente che noi di luglio siamo gli stessi di giugno, non siamo cambiati solo che le varie fasi del calcio, della stagione, dell'estate sono diverse ma il Milan le affronta sempre con i suoi obiettivi, i suoi disegni, le sue visioni e la sua coerenza degli ultimi anni. Ecco, nell'essere noi stessi io non voglio fare il di più, non voglio fare il maestrino, non voglio fare il fenomeno ed è giusto poi che ogni calcio, ogni movimento calcistico abbia la sua identità, le sue caratteristiche, il suo modo di essere però ecco, se voi vedete il mercato che faccia a noi è il mercato meno italiano e meno all'italiana di tutti fateci caso, noi, le nostre cose che noi facciamo o sono prestiti con diritto di riscatto o acquisti a titolo definitivo acquisti con formule, non le facciamo cioè, che poi fanno parte del calcio italiano, non sto parlando di una società nello specifico ma prestito adesso, poi ancora un po' di prestito l'anno prossimo, poi inizia l'obbligo, eccetera formule e poi ce ne sono mille altre ecco, noi non le facciamo, poi magari, anzi sicuramente ha ragione chi le fa però io insisto sulla diversità del Milan, sulla specificità del Milan ecco, a volte le cose che succedono sul mercato italiano sono proprio cose all'italiana ah, tu sei andato sul mio giocatore, allora io ti prendo quello lì che è rimasto libero ah, tu hai mandato quel messaggio al Milan, allora io adesso ti faccio vedere io che vinciamo il derby di mercato ecco, io non so poi se sia così, però è così che un po' appare, leggendo i giornali, leggendo i social ecco, queste sono cose un po' all'italiana guardate il Milan come ha incassato gli sberleffi e gli epiteti giudizi dilettanti allo sbaraglio del derby di mercato per frattesi con totale nonchalance, sì certo non ci ha fatto piacere non ci ha fatto piacere però ti beccavi, ti sei beccato degli insulti, delle critiche per un giocatore su cui insieme ad altri giocatori hai chiesto informazione e che hai sempre pensato che sarebbe andato all'Inter o alla Roma o comunque non al Milan come del resto tutti i quotidiani scrivevano fino al famoso inizio di quella settimana però ecco, il Milan ha incassato a plomb americano, con calma british quelle critiche senza ribattere, senza, sì magari io mi sono agitato in qualche video ma io qui non sono il Milan e non faccio testo sono un tifoso come voi in questa sede e quindi sì, ti brucia che ti fa le battute però voglio dire il Milan vero il Milan vero ha incassato e ha continuato a lavorare ecco anche perché il Milan onestamente se guardate abbiamo preso Luca Romero che era libero senza spirito di rivalsa nei confronti del club da cui proviene, la Lazio abbiamo preso Sportiello che è un giocatore così limpido che Gasp si è fidato a metterlo in porta in ultime 10 pariti decisive per l'Atalanta da titolare anche se sapeva che sarebbe venuto al Milan e poi abbiamo fatto trattative a titolo definitivo tutte con squadre straniere i due del Chelsea e la Z a proposito la nostra trattativa per Reinders è stata lunga era stata molto più lunga quella dell'Atalanta per Kuhnmeiners qualche anno fa riguò l'ultimo giorno di mercato ed era lunga sembrava lunga anche quella di Kerkez ex giocatore della primavera del Milan che sembrava destinato alla Lazio invece poi non è andato alla Lazio quindi anche con la Z non è semplice trattare per nessuno alla fine ce l'abbiamo fatta ecco perché perché noi cioè per noi il mercato è il mercato non è un prolungamento della rivalità del campionato questo intendo dire è molto all'italiana considerare il mercato come un banco di prova di alleanze tra virgolette politiche visioni comuni continuazione della rivalità del campionato della stagione della Champions ecco è molto italiano questo modo di considerare le cose per carità noi siamo un club italiano noi vorremmo sempre più giocatori italiani abbiamo il capitano italiano e ci sentiamo orgogliosamente milanesi e italiani però rispetto ad alcune ad alcune a un certo tipo di modus operandi del calcio italiano ecco noi siamo nei fatti nella conduzione del mercato un club molto poco italiano poi fare mercato in Italia non è semplice perché la tassazione è molto più alta le richieste economiche per i cartellini sono molto più alti diciamo il modo di condurre le trattative esce presto per i rapporti che ci sono fra chi segue a livello giornalistico il mercato in Italia e chi fa effettivamente il mercato in Italia ecco quindi diciamo che non faccio un video di snobismo del calcio all'italiana mancherebbe altro ma su alcuni aspetti che potrebbero essere non meravigliosi del calcio italiano ecco il Milan mi sembra diverso mi sembra specificamente di un altro di un altro aplomb di un'altra sobrietà di un'altra pasta poi vai a capire se è giusta diciamo è giusto il mood del Milan o quello di altri questo non non è lo spirito di questa chiacchierata e nessuno lo potrà mai dire però certai poi insomma poi sono i risultati del campo che contano ma prima che torni a parlare il campo a livello di atteggiamenti a livello di quello che si legge di quello che si vede mi sembra che questa diversità ci sia e che questa diversità ci noti a domani